salve benvenuti su questo server 2 con un gioco del cavolo si perché a me piacciono i giochi del cavolo e se non vi piacciono fatevi di piacere cioè dai sono divertenti allora tru a lightbulb possiamo tirare robe tru a radio possiamo tirare radio possiamo usare opzioni con la c c q chi cazzo li ha messi i tasti e per interagire walk foschina non ci interessa si chiama timore avarizia giochiamo mia cara nipote insomma ci scrive lo zio frank che tutti hanno zio frank o francesco zio francesco dai ce l'hanno tutti e praticamente il suo zio frank ha creato una pozione che ci cura ma ce ne sono anche altre nel basement su toscala nel cantina nel basalento quella parte di insomma che fanno altre cose però non è dato sapere che cosa questa lettera era per me probabilmente il suo esperimento l'ha ucciso devo trovarlo ma se è morto perché lo dobbiamo trovare siamo una ragazzina ad ogni modo e questo è un gioco brutto 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 dalle texture brutte non si ferma forse dovrei da qua sembrava un quadro poi invece sono ma vabbè oh e questo è il basement oh perfetto throw the blind ball ok questa l'abbiamo letto quindi siamo già perché nel basement succede che c'è la grana lancio delle lampadine quante lampadine io ho non è dato saperlo a un certo punto però diventiamo ciechi ho capito stiamo morendo quindi dobbiamo trovarlo immediatamente lo zio vedete se no non vediamo più nulla cioè vedete che cazzo vedete non troviamo nulla ho capito come funziona ok ok ci sono questo lo prendo e via dobbiamo correre correre non si vede più niente premo la c però che tasti messi a cazzo ok questo è un quadrato e qui niente non possiamo uscire non ci vedo più non ci vedo più non ci vedo più ok prendo tutte le pozioni che trovo a che caspito è successo non lo so non vedo niente non so se è un gameplay utile ah che cazzo fastidioso che cosa è successo no di lì sono già si vede un cippo non so raga non so cosa sia successo non l'ho messo io quel suono questo è poco ma è sicuro ho 12 miliardi di pozioni non è che lo zio è tipo impazzito trovo a light bulb come si tirava con la q po lanciamo light bulb ok di lì non vedo più niente allora mettetevi nei panni di una ragazzina no che deve tirare light bulb perchè dovrei tirare light perchè a un certo punto non vedo più che palle aaaah fan culo perchè urlano mi urlano nelle orecchie passa dal dal ci vedo benissimo a non vedo più una sega ecco vedete 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 ok ah ok allora le lampadine le dobbiamo utilizzare tipo fossimo ho sentito a destra qualcuno che urlava tipo fosse il il filo il filo di arianna a un certo punto suona una cosa allora qui ci siamo già stati quindi butto la lampadina non ho più aaaaaah che cazzo sei aaaaaah ok 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 ci siamo va bene ok abbiamo capito come funziona è un gioco di merda che va battuta con la merda io devo trovare questo zio come lo trovo zio? lo trovo andando nel basement dove diventa tutto quanto in questo modo e curandomi ma adesso lo faccio molto più incasinato cioè nel senso no non più incasinato però adesso ho idea di che cosa farò e e e e c'ho i bulbi che non si sa però quante ce ne stando dobbiamo trovare zio sam come troviamo zio sam non parlando in questo modo sicuramente ma seguendo la cartina la cartina la cartina è giusta segui la cartina non ho capito perché quello a un certo punto prende e arriva però come tutti i giochi devo andare di qua mi si è accesa la luce aspetta però la cartina la in alto mi aiuta parecchio ok a questo punto conviene che io segua direttamente la cartina di lì si finisce però faccio il pieno di cose perfetto oh 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 ok allora quando succede quando c'è questo suono succede qualche cosa vi siete accorti che succede qualche cosa no perché per me non succede una sega di niente però se guarda ahhh fangulo quando mi urlano le orecchie non devo stare fermo giusto zio dove sei zio che bello è che lo zio potrebbe anche cioè stare in movimento quindi però ho preso 28 pozioni ormai è un record questo sono sicuro non mi servono più pozioni ok secondo me è qui zio zio ok seguo tutta la strada facciamo come se fossimo in un labirinto vero seguiamo tutti quanti i lati ok questo già l'ho fatto a culo butto una lampadina qua che è andata proprio da un'altra parte del mondo mi stanno chiamando al telefono non è il caso adesso mi sto cagando sotto ma non per altro perché escono cose all'improvviso e non mi piacciono le cose che escono all'improvviso io mi sto facendo tutto il perimetro comunque questo gioco è una merda ad ogni modo ho visto ahhhh puttana perchè mi succedono queste cose nooooo qui c'è devo buttare una luce così perché sono belle le luci ok devo girare di qui no 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 butto una luce anche qua perchè una ragazzina ha delle luci che poi sono pure incandescenza oh sto facendo un sacco un sacco di tragitti eh ok siamo giusti labirinto del cavolo eh labirinto del fauno è diventato il labirinto del cavolo mo 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 mi urlano nelle orecchie no 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 ahhhh lo sapevo che sarebbe successo timore e avarizia eh ma aspetta ma forse è qualcosa nel titolo che io non devo essere troppo avare di pozioni ahhhh che schifo sei ho trovato lo zii questo gioco è una merda vabbè noi ci vediamo al prossimo episodio e se volete giocare a questo gioco è gratuito quindi scaricatevelo e io non ci giocherò mai più però non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo